Parliamo di quello che è un po' anche il titolo della conferenza della Tavola Rossella, il valore del volontariato. Oggi presentiamo qui nella sede del CNEL questo documento sul valore del volontariato. A sottolineare che il volontariato in Italia è una parte importante nell'economia del Paese, nel benesse del Paese. Lo facciamo proprio in questa sede, nella Casa dei Corpi Intermedii, dove il terzo settore è presente istituzionalmente con sei componenti fra le categorie produttive della nazione. Da questo studio si vede quanto è importante l'apporto del volontariato nelle iniziative che anche lo Stato mette ogni giorno a disposizione dei cittadini. L'impatto del volontariato sull'economia del Paese è sensibile e certamente molto più alto di quello che poi è il valore che viene attribuito anche nei punteggi che vengono dati quando ci sono le convenzioni. È un valore chiaramente che abbiamo studiato e si presenta come un risparmio in parecchi milioni di euro per quella che è la macchina dello Stato. Il bisogno proprio del Paese, in base alla visione del volontariato, ha bisogno di più aiuti da parte dello Stato e del Governo? Ma diciamo che ha bisogno di regole certe, ha bisogno di tutela dei volontari, ha bisogno di avere uno spazio in cui possa esplicare la sua azione senza eccessivi lacci e con i controlli dovuti.